Qualcuno ha l'orario? 22 e 25 24 Allora siamo all'ultima Ragazzi, questa è l'ultima canzone Noi Evo mi iniziamo tantissimo, veramente Grazie a tutti voi che siete venuti qua Per essere otto a mangiare i 10 stinti Finalmente mangeremo anche noi adesso Grazie a tutti gli amici Ce ne sono una migliore Grazie agli artisti Silvia e Etty Crocco Seguite il loro progetto che è molto interessante e molto bello Grazie a tutti i musicisti, gli amici Le morose, grazie veramente Ai bikers, soprattutto ai bikers Ai gestori A quelli che ci sono messo, quelli di una volta Tutti voi al saluto Grazie Mauri Grazie Grazie Mauro Grazie Alessandro Grazie Roberto Grazie Diego che sta in cucina Ma fa i spinghi che la svegliamo a mangiarli Questa è l'ultima E con questa canzone vediamo la grandissima Buon saluto Con questa vi richiamo a tutti gli amici bikers Qui abbiamo Williams Qui abbiamo anche la Francesca, Andrea e Marco Ma ci sono anche i bikers di strada ovviamente Buon saluto è casa vostra Ed è sempre un grandissimo piacere venire qua A suonare con voi E portare grandissima festa Con la meta all'arma Il grande Marco Angelo Grazie a tavola Grazie a tavola Patrizia Grazie a tutti quelli che hanno veramente portato Questa grandissima serata Peccato che è a mezzanotte Dovremo finire tutto quanto Grazie a tutti 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 Grazie a tutti